Buongiorno, buon lunedì primo di aprile, bentrovati a questo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito dalla lettura delle prime pagine regionali, come ogni lunedì questa sarà una rassegna stampa molto incentrata sullo sport soprattutto nella seconda parte, ma iniziamo subito dal quotidiano Il Centro, il titolo di apertura dell'edizione di Pescara e Trasport e Cronaca, Guato a Lecce, feriti 5 pescaresi, auto e pullman dei tifosi bloccati in strada, lanciati sassi e fumogeni, i giovani non sono gravi. Già che ci siamo andiamo a vedere che cosa è successo poi in campo, i biancazzurri si inchinano, Serie B vincono i Salentini, Marra si è spulso, niente Palermo, questo il risultato dello scontro diretto che ha visto soccombere il Pescara, poi più avanti nella nostra rassegna vedremo anche il servizio. Ma torniamo alle notizie di Cronaca, lo facciamo con la politica pescarese, Teodoro scarica il PD, mi candido a sindaco Pescara verso le elezioni del prossimo 26 di maggio e poi la manifestazione è sempre nel capoluogo adriatico, autismo, le famiglie scendono in piazza. Andiamo a vedere il richiamo, nel taglio alto siamo all'economia nazionale, paese a crescita zero, l'allarme del Ministro Tria, l'economia italiana è ferma, approfondiremo poi questo e altri temi nello spazio dedicato ai titoli nazionali. e legato sempre al tema economico il Ministero dell'Economia certifica il calo del reddito delle famiglie abruzzesi. Proseguiamo con la lettura di questa prima pagina, sempre nel box del lunedì dello sport troviamo la Serie A con l'Inter che stecca con la Lazio, crolla la Roma e il Napoli esce vittorioso da questo scontro al vertice. Poi per la Formula 1 Ferrari beffata, Leclerc rallenta a causa di un problema la parte elettrica della sua Ferrari e la vittoria va a Hamilton. Per quanto riguarda la MotoGP in Argentina vince Marquez, ormai la fa praticamente da padrona da diverse stagioni, Marc Marquez, ma brilla la stella di Valentino Rossi, secondo davanti a Dovizioso. Poi il podismo, in miglia a Pescara per il Vivi Città vince il keniano Kliplimo, Trivellone domina la gara delle donne. Dunque questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere le altre edizioni provinciali, ancora sport in apertura di Chieti-Lanciano-Vasto. Chieti e Lanciano scoppia, la festa a doppia promozione, i neroverdi esultano per la Serie D, i rossoneri tornano in eccellenza dopo il fallimento della società. Queste anche le immagini, le vedete, della festa, delle due compagini, dell'esultanza dei giocatori del Chieti e la festa con le magliette celebrative per il Lanciano. Nello spazio delle cronache, rischio tumori, parte l'appello alla Regione, rischio tumori nel sito contaminato di Chieti-Scalo, il Sindaco Umberto Di Primio lancia un appello diretto al Presidente della Regione Marco Marsilio, imballo la salute dei cittadini e non si può più scherzare, dice Di Primio dopo l'allarme della ASL. Il Sindaco chiede un intervento urgente per la bonifica delle ex concerie di Via Penne, su cui anche noi abbiamo lungamente trattato nel corso dei nostri telegiornali, con anche un sopralluogo e un servizio che abbiamo fatto proprio in Via Penne, dove i residenti protestano da tempo per la bonifica del sito contaminato. Passiamo a Lanciano, morì in moto a 18 anni, scatta la condanna, è ancora a Vasto, auto sulla spiaggia, da anni per le dune avrà scambiato la spiaggia per una pista da corsa, l'automobilista che è incurante dei divieti e della possibilità di incorrere in multe salatissime ha zigzagato con il fuoristrada lungo l'arenile nel tratto di litorale antistante lungo mare Duca degli Abruzzi in area di nidificazione del Fratino. Poi a Chieti provinciali al voto solo in 805 su 1.248 per il rinnovo del Consiglio provinciale elezioni, chiaramente di secondo livello. Nel taglio basso, elezioni regionali, altri due ricorsi presentati da Berardinetti e da tre elettori marsicani e dunque continuano le contestazioni per quanto riguarda i seggi a Palazzo dell'Emiciclo. Mercoledì 3 è prevista la seduta del Tar dell'Aquila. Ancora Abruzzo in ritardo, i porti dell'Adriatico guardano al Tirreno e poi l'abbiamo già visto il Ministero dell'Economia con il calo del reddito delle famiglie abruzzesi. Andiamo avanti, l'edizione Terramana, il titolo di apertura sempre il centro, il giudice, Telecom paghi per i cavi per il Tribunale e non tocca al cittadino accollarsi le spese per toglierli dal terreno. Le elezioni provinciali anche a Terramo, oggi lo spoglio, provinciali votano 497 amministratori. Lo spoglio inizierà, anzi è appena iniziato alle ore 8, ma il risultato delle elezioni provinciali sembra essere scontato tecnicamente in base al meccanismo del voto ponderato. I risultati delle elezioni in assenza di sorprese legate a franchi tiratori dovrebbero consegnare 7 consiglieri al centro-sinistra e 5 al centro-destra. I funerali a Civitella, folla per l'addio all'ex DS di Antonio, poi ci spostiamo a Giulianova, Lido, Palme, il Tar boccia la variante. I giudici del Tar bocciano ancora la lottizzazione, nei giorni scorsi infatti il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso che i due proprietari di un'area dell'interno della zona hanno presentato contro la variante approvata qualche anno fa dall'amministrazione comunale di Giulianova. Poi ancora Martinsicuro, Palasport in gestione per 5 anni. Andiamo nel box dello sport del lunedì con la Serie C, il Teramo ferma in Renate, salvezza più vicina per il Diavolo e poi Batosta per il Roseto Basket sul campo del Treviso. L'esuperanza fisica dei ragazzi di Cocce d'Arcangeli ha sbattuto dolorosamente contro la potenza della difesa trevigiana. Passiamo all'edizione aquilana del quotidiano centro. In apertura la El Foundry nelle mani dei cinesi, operazione da 112 milioni di dollari per produrre dispositivi elettronici, questo per quanto riguarda l'azienda di Avezzano. All'Aquila servono altri 6 miliardi per la ricostruzione. I responsabili degli uffici speciali Provenzano e Fico fanno i conti con il terremoto del 2009. La richiesta dei 6 miliardi avanzata al sottosegretario Crimi sia per la parte privata che per quella pubblica. L'istanza accompagnata dalla richiesta di uno snellimento burocratico per spendere i fondi già stanziati e in scadenza il prossimo anno. Poi ancora l'Aquila guardrail killer. Anas condannata trasacco stroncata da un male. Aveva solo 26 anni. Lina grasso è morta ieri a causa di una grave malattia. Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Ancona. I funerali si terranno oggi. Ci spostiamo a Sulmona, liceo chiuso da 10 anni, corteo di protesta e poi andiamo a vedere nel box del lunedì dello sport. Suli, il migrante calciatore segna per l'Aquila e poi ancora Serie D. Avezzano al tappeto. La sconfitta arriva nel finale a Recanate a sancire il terzo K.O. consecutivo, quarto della gestione Colavitto. È stata una zampata di Sivilla che nella prima frazione Manare aveva risposto al vantaggio immediato dei giallorossi a opera di Borrelli. Lasciamo il quotidiano in centro. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina dell'edizione abruzzese del Messaggero. Il titolo di apertura l'Aquila, boom di case in vendita. Ancora troppi disagi nel centro storico e molti cedono anche la prima abitazione. Via agli studenti, prezzi in continuo ribasso, immobili in offerta. Come al supermarket, questo l'approfondimento in vista del 6 aprile con il decennale del sisma. Poi ancora Matteo, venuto al mondo mentre l'Aquila crollava. È sempre un focus su quanto accaduto nel 6 aprile del 2009. Poi ieri paura al Bernabeo, paziente in fuga. Nessun ferito, fiamme nell'ospedale di Ortona. Il rogo è doloso. Per fortuna non ci sono stati grandi problemi. Nel taglio alto invece troviamo il calcio. Pescara piegato a Lecce e finisce anche in 10. Salentini chiudono la partita direttamente nel primo tempo. Poi ancora Serie C, Teramo. Ottimo pareggio in trasferta contro il Renate a Meda. Poi ancora il calcio. Chiete e Lanciano festeggiano la doppia promozione. Di spalla invece troviamo la notizia che riguarda i balneatori. Eccola qui, Mauro Febbo e i balneatori. Superare la BOL che sta in i concessionari delle spiagge. Chiedono garanzie sugli investimenti insediati ora dagli appalti. e questa è la direttiva europea che impone di andare a gara per le concessioni demaniali. Nel taglio alto, sotto la testata, l'incubo fa sesso con l'amica. Poi rivela di essere siero positivo il giovane di Avezzano. Giulia Nova, i soldi delle multe utilizzati per mettere a posto le strade. A Chieti picchiava la moglie incinta. A giudizio il marito padrone. Andiamo adesso a vedere, prima di vedere il servizio, nella copertina di sport del lunedì del centro. Il Pescara bocciato all'esame Lecce. E questo è il titolo. Sconfitta senza attenuanti. Mercoledì sera in casa contro il Palermo. Il Delfino sarà senza marra. Marras e poi di spalla, vedete, lo 0-0 del Teramo a Meda. Andiamo a vedere anche il titolo dell'Abruzzo Sport del messaggero, prima di lanciare il servizio del Pescara. Ecco qui, Pescara saluta la diretta. La sconfitta a Lecce è maturata nel primo tempo ed ora il gruppo delle prime sta marciando forte. Inizio troppo soft, non funziona l'esperimento di Brugman trequartista. Marras si fa espellere. Poi di spalla Ciofani, mancata la cattiveria. Pinto sognavo. Un debutto diverso. La partita è finita 2-0 per il Lecce. Ci sono stati anche degli scontri e dei feriti. Ci racconta tutta nel servizio Paolo Renzetti. Una serata nera con i tafferugli di Quinsano, dove i tifosi del Pescara prima della gara di Via del Mare erano entrati in contatto con i tifosi del Lecce. E poi in campo allo stadio Salentino, dove il Delfino ha subito l'ennesima sconfitta esterna negli scontri retti della stagione. A questo punto sarebbe il caso di essere realisti e guardarsi alle spalle per cercare almeno di blindare un posto playoff. E mercoledì ci sarà il Palermo allo stadio esterianico. Il Delfino non potrà davvero sbagliare, ma dovrà fare a meno di Marras, che verrà squalificato. Piloni schiera la sua squadra con il 4-3-1-2. Campagnaro gioca dal primo minuto in difesa, dove ci sono le novità di Ciofani e soprattutto sul sinistra di Pito. L'esordio assoluto in Biancazzurra, centro-campo, torna dopo un mese Brugman con Memusciai e Bruno, mentre in attacco con il rientrante Malenancuso c'è Marras, Lecce e Liverani, conferma in Toto la squadra vittoriosa per 7-0 con l'Ascoli. Dei quattro ex Biancazzurri in campo ci sono venuti e Falco. L'avvio del Melch diretto da Ross di Pordenone vede la partenza lanciata dei pugliesi. Al quarto minuto Tocco, forse con la mano in area di rigore di Biancazzurra di Crecco, con il fischietto di Pordenone che probabilmente copia il petto, non vede l'irrigolarità e lascia proseguire fra le proteste della formazione di casa. La squadra di Liverani preme al 14esimo, trova così il vantaggio. Il pescara pasticcia ancora un gol di Fiorita sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il colpo di testa di Venuti. Lasciato tutto scopo di volo e con la parola che quasi involontamente finisce all'amantia che davanti a Fiorillo non sbaglia per il gol del vantaggio. Subito in salita la gara degli abruzzesi con un approccio di partita da vedo troppo tenero. Al 29esimo Brugman ci prova su punizione ma la palla finisce di poco a lato. Passano 6 minuti con il Lecce che mantiene il controllo della Dab di gara e che trova il raddoppio al 37esimo con Mancosu che dopo una respinta corta della difesa Biancazzurra destro fa il 2-0. Si fa ancora più difficile per il della Dab di Pescara. La partita un Pescara timido e impacciato ma che non vuole alzare bandiera corta bianca. Ghiotto opportunità poi al 43esimo che capita sulla testa Dab di scognamiglio che da ottica altima posizione trova però la parata di Vigorino. Nella ripresa nel Pescara c'è Bellini per Bruno. Dab di mailecce a sfiorare al decimo il trisse con Petriccione che trova la respinta di Fiorillo. Per i biancazzurri tanto gioco tanto possesso palla ma nessuna vera conclusione verso la porta del portiere leccese. Con il finale di partita anche un terza più amaro visto che al 35esimo arriva il rosso diretto. Per Marras per un fallo su Petriccione. Al peggio come dire non c'è mai fine visto che poi al 43esimo Mancosu e al 43esimo Palombi si divorano il gol del 3-0. Un per il Pescara rischia la guada ed esce dallo stadio di Via del Mare con una sconfitta che deve far riflettere. Torneremo sulla partita fra Lecce e Pescara poi nella seconda parte della nostra rassegna. Intanto andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura richiamo di Conte ai ministri. Il capo dell'esecutivo chiede più sobrietà e generosità. Tria difende le banche, attaccarle, mina il paese. Fontana della Lega e 5 Stelle ci coprono di insulti. Decidano se governare ancora con noi. Lo scontro l'ultimo in ordine temporale è quello sul congresso di Verona per quanto riguarda i temi della famiglia e della difesa della famiglia naturale rispetto a quelle a Cobaleno. Andiamo a vedere poi l'editoriale firmato da Francesco Giavazzi, il realismo che deve guidarci. Due le questioni che allarmano l'Eurozona, scrive Giavazzi. La prima è la Brexit, la seconda è l'Italia. Poi ancora andiamo a vedere a centropagina in Slovacchia l'avvocata Susana Caputova, 45 anni, è stata eletta presidente. Il fronte di Visegrad rotto da una europeista. Queste le notizie che arrivano dall'Europa. Il business del calcio, la TV pirata dei clan ha 2 milioni di clienti, scrive Federico Fubini. Il tema appunto delle TV pirata da tempo è dibattuto sui quotidiani e non solo. Andiamo su Repubblica adesso. Il titolo di apertura Salvini, qui comando io. Dopo lo scontro il Premier vede il leader leghista che detta le condizioni per la tregua ma sarebbe pronto a far saltare tutto. Tria lancia l'allarme crescita zero e chiede interventi urgenti. Confindustria, se continua lo stallo, è meglio andare al voto. Parla anche l'ex ministro dell'economia Padoan. Solo Schermagli è il vero problema e chi paga il conto della recessione. E poi il caso via le prime nuove pensioni favoriti quota 100 a tutti gli altri in coda. C'è poi il punto di Stefano Folli nel labirinto della reciproca convenienza. Il titolo sulla riflessione che ci fa riflettere appunto sul titolo di apertura e sulla politica italiana. Andiamo adesso a centropagina con la Formula 1. Il sogno di Leclerc in fumo. La Ferrari tradisce il suo cavallino rampante. Doppietta Mercedes in Bahrain con la Ferrari di Leclerc. Con un problema tecnico finita in terza posizione. Andiamo sulla stampa. Ancora politica. Fondo Movimento 5 Stelle su Tria. Conflitto di interessi. Ora il ministro rischia. La Lega attacca Conte. Non è più l'avvocato del popolo ma solo dei grillini. Il Premier rimprovera. Il titolare del Tesoro non crede alla manovra. L'analisi. Così il Colle protegge le banche. Scrive l'ex commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli. Poi il sondaggio in 15 paesi dell'Unione Europea. Le paure degli europei preoccupa più il lavoro dell'arrivo dei migranti. E poi a centropagina ancora Sport. Giovani Stelle con Leclerca. Un passo dal trionfo ieri. E il campione di tuffi fuori dalla nazionale. Perché figlio di romeni. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Abbiamo, prima di vedere il titolo di apertura, la storia di copertina che riguarda l'Aquila. L'Aquila 2019 è provvisoria vita. Ancora 10.000 persone vivono nelle New Town. La procura ha aperto 200 fascicoli. Il centro è spopolato come lo sono. Molti paesi limitrofi. Cos'è rimasto della promessa? Tutto tornerà come prima. Dunque la storia di copertina con il viaggio nel capoluogo abruzzese a 10 anni dal terremoto che riconoscono proprio il prossimo 6 di aprile. E poi il titolo principale. Adozioni. Il nulla della Lega. Ma che famiglia dopo la gaff sulle competenze? Ecco cosa ha fatto Fontana. Altro che velocizzarle. Nessuna legge e finanziamenti pubblici. Tagliati. In marcia su Verona. Le ultime follie. Le donne a casa. E il Papa. Nemico. Andiamo sul Sole 24 Ore. C'è il focus che riguarda i rincari nelle città su Imo, Irpef e Turismo. L'indagine del Sole 24 Ore. Dopo tre anni di tregua ripartono gli aumenti per Imo. 9,4% dei comuni. Addizionale 7,3%. E tassa di soggiorno 10,7%. Le tendenze. Prelievo al top in numerosi centri. Sottotiro gli sconti sugli affitti concordati. Solo il 22% apre alla sanatoria agevolata delle liti. Dunque questo è il focus del Sole 24 Ore. E poi pensioni. Quattacento per soli uomini. Pionieri dell'anticipo. Via in aprile. Ai primi 26.831 assegni. 10,7% donne. E 33,4% al sud. Importo medio fra i 1.000 e i 1.500 Euro per il 45,6% di vieto di cumulo fino al raggiungimento dell'età per andare in pensione di vecchiaia. Poi ancora casa abusiva. Vendita salva con titolo edilizio. Ma non in tutti i casi. Questa è la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Nel taglio basso troviamo gli asili nido. Solo cinque regioni raggiungono il target fissato dall'Unione Europea. E sono Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Trento. Sul messaggero ora. Allarme di Tria. L'Ite sulla crescita. Questo è il titolo che apre il giornale. Il MEF serve subito il decreto e giù le mani dalle banche. Movimento 5 Stelle e Lega divisi sullo sblocco appalti. Conte ai ministri. Meno parole e più azioni. Confindustria. Troppe divergenze. Scusate. Meglio il voto. Verso le europee. La riflessione di spalla. Alessandro Campi. Nuovi rapporti di forza nel mercato giallo-verde. Poi ancora il Carroccio. Commissione sulle adozioni. Il ministro Fontana. Tanti 5 Stelle con me. Maschilista. A casa comanda. Mia moglie. Questo l'approfondimento sul ministro. Centro Fontana. Poi ancora sia gli scooter 125 anche in tangenziale. Il limite resta a 130. Accordo. Lega 5 Stelle sul nuovo codice della strada. Niente aumenti di velocità e di vieto di fumo in auto. Poi lo sport a centropagina. Lazio. Triunfo e sorpasso sui giallorossi. Clorlo della Roma. Pallotta e colpa dei giocatori. Andiamo sul quotidiano. Il tempo. Restiamo in tema sportivo. Restiamo a parlare della Roma. È da costruire la Roma. Non lo stadio. È abbastanza tranchant il titolo del tempo. La squadra di Ranieri umiliate in casa dal Napoli. Da cui ne prende 4 a 1 senza reagire. In procura giorni decisivi intanto per l'inchiesta sullo stadio. Ma è quel che accade in campo a preoccupare. Nel frattempo Spondalazio si sorride. Batte l'Inter e resta in corsa per l'Europa. Sul giornale. Fine delle illusioni. Non c'è più un euro. Triamette. Crescita zero. Qui è tutto bloccato. Fra Lega e 5 Stelle. Crisi vera in 5 punti. Così il giornale. Andiamo su Libero. Liti e provocazioni continue. Movimento 5 Stelle e Lega non si tollerano più. Lo scontro sulle famiglie si acuisce. Fico lancia la giornata gay in Parlamento. Spadafora con Salvini mai più alleati. Scoppia la grana dei conti. Crescita zero a causa del reddito grillino. Al posto del taglio delle tasse. Dunque approfondimento anche su Tria. Centro pagina. Il governo sull'economia ha fallito. Gli industriali suonano la sveglia. La resa dei conti scrive Vittorio Feltri. Questa alleanza è durata fin troppo. Sulla verità. Aumenti a pioggia. In apertura premi e fannulloni assenteisti. La cuccagna dei dirigenti statali. In Sicilia distribuite gratifiche al 97% dei burocrati. In Molise regalati 3,7 milioni a chi danneggia l'erario. A Piacenza chi latita dall'ufficio viene promosso. A Napoli si inventano pure la produttività di gruppo. Lasciamo la verità. Andiamo sul secolo. Valore e famiglia. Si torna su quello che è accaduto a Verona. Dio, padre e famiglia sono una figata pazzesca. Cara Cirinna. Il titolo di apertura del quotidiano diretto da Francesco Storace. Che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Poi in primo piano. Imponente corteo a Verona sulle note di We Are The Family. Poi Tria ammette la recessione nel 2019. Crescita a zero. I Berlusconi sfida il PD. I moderati voteranno Forza Italia. Sul mattino di Napoli adesso ancora le parole di Tria. In primo piano l'allarme del tesoro sulla crescita. Ma il governo litiga su tutto. Chi attacca le banche attacca l'Italia, dice Tria. Conte risponde. I ministri parlino meno. Taglio delle tasse e cantieri. Leghe 5 Stelle divisi. Confindustria. Se è così meglio votare. Andiamo a vedere i principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Eccola qui. Volano gli stracci. Inter senza pace. Con la Lazio che vince 1-0. Spalletti fulmine ai cardi. Umiliante dover mediare per vestire questa maglia. Questo è il titolo sull'Inter. Poi Leclerc tradito dalla rossa. Prima in canta. Poi la macchina lo lascia praticamente a piedi. O quasi vince Hamilton. Di spalla. Ancelotti lancia il Napoli. La Roma all'inferno. 1-4. Finisce la partita. Totti dice. Io saprei cosa cambiare. In casa e fuori. Talenti bianconeri. Kennel. Meglio Juventù. Giocando sulla meglio gioventù. Da Berna a Mandragore. Ancora Summit tra dirigente e tecnico. Milan il piano anticrisi. Lui è Maldini da Tuso. Per quanto riguarda poi invece ancora la corsa Champions. Parma ribaltato 3-1. Papo in venta. Zapata sfonda. L'Atalanta può crederci. La Champions è a tre punti. E ancora MotoGP. Tutto facile per Marquez. Ma c'è sempre Valentino Rossi. Inossidabile. Andiamo sul corriere dello sport. Partiamo dall'Inter. Punito. Impresa Lazio. Inter-KO. Spalletti sotto accusa. Ma il tecnico difende la scelta di escludere i cardi. Doveva restare fuori per come si è comportato. E poi Roma in ginocchio. 1-4 contro un Napoli Show. Pallotta invita a tirare fuori gli attributi. Azzerati dunque il titolo. Poker di Milik, Mertens, Verdi e Heunes. Per i giallorossi Europa più lontana. Ranieri rischia. Totti chiede più poteri. Andiamo a vedere adesso il titolo di Tutto Sport. Siamo in chiusura della prima parte. Spalletti demolisce i cardi. Titola Tutto Sport. Grande Lazio. Bufera. Inter. E poi Operazione Ken 2024. La Juve al lavoro per rinnovare il contratto del talento. Andiamo avanti con il taglio alto Toro. Adesso basta. Pari a Firenze. Ma un'altra occasione sprecata. Per l'Europa serve un cambio di passo. E mercoledì c'è la Samp. Mazzari. Striglia. Zazza. Questo per quanto riguarda il Torino. Nel taglio basso. Zapata. Che botti di compleanno. Dea a meno tre dalla Champions. Gasp scatenato. Avanti così Atalanta. La Formula 1. Leclerc fantastico. È fantastico. Corre il futuro è suo. Ma la Ferrari cede. Rossi che sciò. Lotta con Dovizioso. E finisce secondo. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo prima però a vedere le previsioni meteo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. E allora siamo tornati insieme per la seconda parte della nostra rassegna. In cui dedicheremo tanto spazio allo sport con tanti altri servizi di serie C e serie D. Ma partiamo invece dalle pagine di primo piano del quotidiano Il Centro. Da Avezzano lo stabilimento El Foundry passa ai cinesi per 112 milioni di dollari. Il nuovo proprietario al 100% delle quote. e Jansu Cas IGBT Technology. Si produrranno dispositivi elettronici per rendere sicure auto e macchinari medici. Il sindaco di Avezzano De Angelis dice operazione che rilancia il sito produttivo. E poi i porti adriatici. Corsa per l'alleanza col Tirreno. L'Abruzzo prende tempo. Marche e Puglia sviluppano i collegamenti con Civitavecchia e Napoli. Altra pagina di primo piano con i conti. Cala il reddito delle famiglie abruzzesi. Nel 2017 si attesta a 17.400 euro l'anno in discesa del 3,1%. A livello nazionale il Ministero rileva un calo dell'1,3%. Poi il reddito di cittadinanza parte la seconda fase. Entro il 15 aprile l'Inps comunicherà agli ammessi. Dal 6 si possono presentare altre domande. Nel taglio basso di questa pagina sei pensionati su dieci con meno di 750 euro. In Abruzzo sono quasi 400 mila i trattamenti erogati. Le donne sono più povere degli uomini. Pagina Abruzzo con i seggi contesi all'emiciclo. Elezioni regionali. Due nuovi ricorsi a quelli del centro-sinistra e del centro-destra. Si aggiungono quelli di Berardinetti e di tre elettori. Il 3 ci sarà l'udienza al Tar dell'Aquila. Siamo così arrivati ancora sul quotidiano Il Centro. Nella pagina di Pescara in apertura. Guerriglia in strada. Feriti 5 pescaresi. L'agguato a Lecce. 50 ultraggio a loro. Si invadono la statale. Bloccano auto e pullman diretti allo stadio. Poi scagliano sassi e fumogeni. Gli aggressori sono piombati. Di improvviso dalla campagna hanno occupato entrambi i sensi di marcia. Costringendo i medi a fermarsi. Erano armati di pietre e bastoni. Due supporter biancazzurri sono stati trasportati in ospedale. Ma l'attacca ha escluso conseguenze gravi. Anche l'autista del bus è stato. Colpito. E qui vedete proprio alcune fotografie di quanto è accaduto in strada ieri sera per quanto riguarda la partita fra Lecce e Pescara. Perché il precedente viene ricordato dal giornale. All'andata scoppiò un incendio di sterpaglie a Francavilla. Proseguiamo sempre sul quotidiano Il Centro. Verso le comunali di Pescara nel centro-sinistra Teodoro scarica il PD, farò il sindaco. L'assessore boccia la candidatura di Ciofani proposta dai DEM e annuncia che correrà da solo parte l'esodo di altre civiche. Poi ancora l'intervento di Costantini, ospedale a rischio declassamento. La regione deve indicarlo subito come DEA di secondo livello. Ancora i consiglieri a tutti i candidati. Salvate la sanità pescarese. Appello di Longhi del PD e Gaspari di MDP. Nel taglio basso provincia vince il centro-destra a forza di libertà sei consiglieri. Casciano il più votato della sinistra. Questo è il risultato delle elezioni provinciali. Proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara sul centro. Tassa dei rifiuti, ultimo giorno per pagare la prima rata. Oggi scade il termine per l'Atari. Poi ancora famiglie in corteo. Più tutele per chi soffre di autismo. Manifestazione in centro con la band musicale i Clown. La regione investa 3 milioni per il ricovero dei pazienti. Nel taglio basso è morto a 77 anni Fabbrini. Una vita tra i pianoforti con il fratello Angelo. Oggi ha le 15 funerali a Pescara. Andiamo nelle pagine di Pescara sul messaggero. Ripartiamo dalla politica. PD avanti con Ciofani. Teodoro rompe, si candida a sindaco. L'avvocato conferma la disponibilità ad accettare la chiamata. Ma il centro-sinistra perde un alleato di peso. Rebus Di Matteo. Lo strappo insanabile sancito ieri sera con una lettera da Via Lungaterno. Oggi il via libera al proprio candidato. Poi ancora Vivi Città. Marsilio con il numero 1 corre e posa con i podisti per la Lilt. E qui vedete proprio la fotografia. Ancora andiamo a Città Sant'Angelo. Rottura a Città Sant'Angelo. I DEM blindano Melchiorre e scontro. Per quanto riguarda anche qui il comune che torna alle urne. E poi nel taglio basso Buone Azioni. Debutta la Fondazione Veronesi. La pagina di Chieti sul messaggero. Paura al Bernabeo. Fiamme dolose domate dai pompieri. L'incendio si è sviluppato alle 13 dal deposito di Biancheria al quinto piano. In un'ala che per fortuna non ospita pazienti. Il direttore generale Vincenzo Orsatti smentisce l'ipotesi della bombola esplosa. C'è un responsabile da individuare. A Lanciano l'idea di Verna. Busse elettrici sull'ex tracciato della Sangritana. E poi ancora Gissi. Appello per la tutela della salute nell'entroterra. La mia moglie è salvata al centro medico che la politica voleva chiudere nel taglio basso. Violenze in casa. Picchiate in casa. Il marito ha processo. Andiamo a vedere la pagina di Chieti sul centro. Inquinamento. La paura dei veleni. Rischio tumore. Appello per la bonifica. Sito contaminato a Chietiscalo. Il sindaco chiama Marsilio dopo l'allarme dell'ASL. Salute in pericolo. La regione si muova. Ad Arielli. Incendio a fuoco. 100 pannelli solari sul tetto. E poi ancora il voto in consiglio provinciale a Chieti. Vota il 64% degli amministratori alle urne in 805 su 1.248 a 20 diritto. Questa mattina lo spoglio che è già in corso da una mezz'ora circa. Poi incendio all'ospedale di Ortone e Dolosa. Abbiamo già visto l'incendio partito dal locale Biancheria al quinto piano. L'incidente con la sentenza ribaltata. Scontro mortale. 16 mesi alla conducente Marcello Varrenti. 18 anni. Era sul suo ciclomotore. L'automobilista è stata condannata perché gli tagliò la strada. Parte oggi il testamento biologico. A Lanciano apre in comune il registro delle disposizioni di trattamento. Costa 10 euro. Nel taglio basso. A Vasto. La denuncia degli ambientalisti. Auto invadono la spiaggia. Danni alle dune del fratino. Poi ancora proseguiamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo nella pagina dell'Aquila. Giustizia dopo 25 anni. La sentenza pilota ucciso dal guardrail. Anas condannato. Un imprenditore morì nell'auto. Trafitto dalla barriera ritenuta dai giudici. d'appello inadatta a fare da protezione. Ancora. Torno in parte. Ok al bilancio preventivo. Riduzione per i muettari. Il 3 e 4 aprile. Nella sede di Confindustria. A Telenia. Colloqui per assumere. L'azienda vuole impiegare 120 persone. Presentati 2 mila. Curricula. Pagina successiva. Verso il decennale. Servono altri 6 miliardi per la ricostruzione. I responsabili degli uffici speciali. Provenzano e Fico. Fanno i conti del terremoto. Richiesta al sottosegretario crimi. Sia per la parte privata. Che per quella pubblica. Poi ancora. Assulmona. Liceo chiuso da 10 anni. Corteo e sitine di protesta. Da parte degli studenti. Proseguiamo. Andando nelle pagine dell'Aquila. Sul messaggero. Crollo del mercato degli affitti. In centro e boom di vendite. In molti cedono anche la prima casa. Troppi disagi che si vivono oggi in centro. Gli studenti scelgono le zone più vicine alla facoltà di riferimento. Poi di spalla. Rifiuti, scarti ed erbacce. Puliti fiume e piazza. Per le giornate ecologiche. Nel taglio basso dell'Aquilano. Il trentenne. Che nascose di essere siero positivo. Pagina successiva. La regione non dimentichi la ferrovia Ceglie e Cambise del Partito Democratico all'attacco ad Avezzano. Che fino a fatto il collegamento Marsica sul Mona Pescara e il ritorno. Contestata la troppa libertà ai privati. Cheppure servono. Ma di completamento. E non tutto il contrario. In esclusiva. Adesso, anzi, restando sempre sul messaggero, andiamo ad aprire invece la pagina di Eteramo. Eccola qui. Mense, il comune in aiuto delle famiglie più povere. Fasce di reddito ancora più differenziate per avere i benefici delle tariffe scontate. Azioni per recuperare i debiti dei cittadini. Non tutti sono in difficoltà economica. Tra le novità del regolamento, la possibilità di portare pasti da casa, ma solo il prossimo anno. Di spalla, strade senza pericoli, coi soldi delle multe che saranno utilizzati a Giulianova per sistemare proprio le strade. Andiamo a vedere sul centro la pagina di Eteramo. Eccola qui. Battaglia in tribunale. Il giudice Telecom sposti i cavi e paghi. Accolto il ricorso di un cittadino, la società gli aveva chiesto di sostenere le spese e togliere gli impianti dal suo terreno. Ancora a Civitella, la Dio all'ex DS di Antonio sulle bare, le maglie del Teramo e della Sant. Nel taglio basso, vertebra rotta, tempi lunghi per le terapie. 82 anni, non riesce a prenotare la riabilitazione. Pagina successiva. Giulianova, il Tar boccia ancora la lottizzazione del Lido e delle Palme. Accolto il ricorso dei fratelli Pagliarici. Poi ancora a Martinsicuro, il Palasport andrà in gestione per 5 anni. Il Comune approva l'atto di indirizzo e prepara il bando di gara per l'affidamento. Oggi lo spoglio per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Teramo. Votano 497 amministratori. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Andiamo a vedere di nuovo quanto accaduto fra Lecce e Pescara. Il Pescara si inchina a Lecce. Altro scontro diretto perso dai biancazzurri timidi, incapaci di reggere l'urto dei giallorossi. L'approfondimento. Voci dallo spogliatoio. Pillon, Pescara, timoroso. Ora dobbiamo ripartire. Il tecnico non cerca alibi. Mi aspettavo una gara diversa. Play-off alla portata. Ciofani senza attenuanti. Sono emersi i nostri difetti. Il terzino ammette che siamo in un momento difficile. Abbiamo perso la brillantezza di inizio stagione. Poi ancora le pagelle dei biancazzurri. Marras è nervoso. Mancuso non pugge. Fiorillo evita il tracollo. Brugman è pinto. Poco brillanti. Questi voti per i giocatori. Abruzzesi. Praticamente tutti sotto la sufficienza. A parte Fiorillo. Siamo così arrivati al Teramo. Dunque alla Serie C. Pari che avvicina la salvezza. Il punto sul campo del Renate permette di restare a distanza dalla zona play-out. potete tenere alla portata il decimo posto nella prossima rivale. Vicenza rimontato dalla Ternane in casa. Non vince mai. 1-1. È finita la partita. 0-0 invece fra Teramo e Renate. Fra un attimo andremo a vedere la partita e il servizio. Adesso andiamo a recuperare proprio il titolo sul Teramo. sul messaggero. Il Teramo da trasferta esce in denne con Renate. A Meda finisce 0-0. Punto prezioso per la salvezza. Bravo il portiere Pacini a salvare per due volte. Poche emozioni. Ma va bene così. Il programma oggi giornata di riposo in previsione del Vicenza. Ma noi andiamo a vedere insieme il servizio. Il Teramo dà continuità al successo in trasferta contro la Gianna e Erminio. A Meda contro Renate finisce 0-0 ed è un punto prezioso in ottica salvezza per i biancorossi che salgono così a quota 38 punti. Il Teramo è ancora in versione 3-5-1-1 con proietti che stringi i denti dopo la leggera distorsione al ginocchio destro e scende in campo in cabina di regia. Sparacello è preferito ad Infantino che tornerà però in campo dopo il forfè di Gorgonzola nel corso della ripresa. Il primo tempo è da svadigli. Le due squadre stanno più attente a non farsi male che ad affondare. Il Renate dovrebbe fare qualcosa in più, considerata la classifica peggiore rispetto al Teramo, ma solo Rossetti nel finale impegna Pacini. La ripresa offre qualcosa in più ai presenti. Al diciottesimo il Teramo sale su azione manovrata. Sparacello lascia Proietti che da buona posizione però non trova lo specchio della porta. Un minuto più tardi è Caidi ad andare vicino al gol con Cincilla che però si fa trovare pronto. Il Renate risponde prima della mezz'ora. Prima con una conclusione dalla distanza di Venitucci che Pacini alza in angolo. Poi Pavan gira il successivo calcio d'angolo verso la porta ma l'estremo bianco-rosso non si fa sorprendere. Maurizzi prova a cambiare qualcosa mandando in campo Persia, Giorgi e Armeno al posto di Spinozzi, Spighi e De Grazia. Nel finale il Renate prova a premere di più rispetto ai bianco-rossi ma di occasioni concrete non ce ne saranno. E invece è molto concreto il punto che il Teramo si porta a casa per dare continuità alla propria risalita in classifica. Domenica prossima dopo due trasferte consecutive si tornerà a giocare al Bonolis. Non ci sarà De Grazia che era diffidato e a Meda ha munito. Le reazioni alla partita, le parole di Maurizzi sul centro. Abbiamo gestito un risultato che ci sta bene, il tecnico non vuol sentir parlare di obiettivi ambiziosi. Ci interessa prima la permanenza matematica nella categoria. Non si può prevedere quanti punti servono per quanto riguarda le pagelle. Solo infantino, insufficiente, 5,5. Tutto il resto della squadra sopra la sufficienza. Andiamo a vedere le parole di Maurizzi anche sul messaggero. Maurizzi e De Grazia traditi da un pessimo campo. Le parole di Maurizzi che incassa un punto prezioso. Per il Futsal Acqua e Sapone grandi numeri. Vicina al successo Perez un passo dalla vittoria in regular season. E poi per il ciclismo Giro la tappa vastese nel segno di Scarponi. Il fratello Marco ha illustrato le iniziative sensibilizzando la creazione delle giuste. ciclabili. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo avanti nella Serie D. Girone F. Il derby dell'Aragona. Goduria vastese. Il notaresco rallenta. Decidono le reti di Russo e Stivaletta nel giro di 5 minuti. Biancorossi vedono la salvezza. Il rosso-blu non vincono da un mese. Curini non ci sta ai punti oltre i nostri puniti, oltre i nostri demeriti. E poi Papagni che commenta questa vittoria la dedico a Vincenzo Cosco. Andiamo a vedere il titolo del messaggero sulla partita, sul derby dell'Aragona. Vastese vince il derby e ipoteca la salvezza. Battuto il notaresco 2-0 che ambiva ai play-off per gli Aragonesi missione compiuta. Segno nel secondo tempo Russo e Stivaletta con un gran gol. Terramani distratti. Bolami, il presidente della Vastese, commenta. Ho dato il massimo. Capitemi. Mister Cumidini è arrabbiato. I suoi hanno sottovalutato la gara. Ne parliamo in settimana, dice il tecnico. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. Non sarà bella da vedere, ma la Vastese del nuovo corso Papagni è tremendamente cinica. Non subisce gol, sa soffrire e quando può colpisce. E stavolta a farne le spese il notaresco, che cade all'Aragona, grazie ad un inizio di ripresa super che consente ai Biancorossi di incamerare altre tre lunghezze che profumano davvero di salvezza. Consueto schieramento per Cudini che ritrova Minella al centro dell'attacco con Candellori che torna a fare la mezzala e Moretti e Laringe ai lati del bomber sudamericano. Schieramento prudente invece per i baroni di casa, ancora senza Leonetti, squalificato e con Giampaolo la cui stagione è terminata. 3-5-1-1 per Papagni con Sbardella del Duca e Iarocci dietro e Stivaletta alle spalle dell'unica punta a Sciba. La prima emozione di una frazione che praticamente non ne regala arriva al dodicesimo corner di Candellori. La difesa aragonese ribatte corto ma a bontà di prima intenzione colpisce in maniera sporca permettendo a Patania di controllare un tiro centrale. Al ventesimo prova la risposta Lavastese, percussione centrale di Sciba stoppato dalla retroguardia notare schina e la battuta di Palestini non crea problemi a Monti. Lavastese prova a non prenderle e lo schieramento in campo impedisce grandi occasioni. Si va per tentativi molto sporadici come quello di Stivaletta al 36esimo, davvero velleitario. Sarebbe potenzialmente pericolosa invece la sua ripartenza al 45esimo, ma il centrocampista sbaglia totalmente il servizio per Sciba. L'inizio di ripresa però regala subito il vantaggio di casa. Azione insistita degli aragonesi, Di Giacomo rimette al centro un pallone che sembra in uoco ma prende in contropiede l'intera retroguardia del notaresco che non chiude su Jenny Russo. Colpo di testa e Monti è battuto dopo 475 minuti. Altro gol di un difensore della Vastese dopo quello di sette giorni fa di De Meio. La relazione ospite sarebbe già in cantiere ma si scontra con il gol capolavoro al 55esimo di Cristian Stivaletta. Sassata dalla distanza, pallone che bacia il palo e si insacca per il 2-0. Gol stupendo per Stivaletta che esulta sotto la Davalos. Al sessantesimo si rivede il notaresco dopo minuti di sofferenza. Bontà prova da posizione defilata a battere Patania ma la sfera finisce a lato senza deviazione. Ma sembra una Vastese trasformata quella che interpreta un secondo tempo a ritmi più elevati. Papagni richiama un applauditissimo Stivaletta per Cicerello. Udini toglie Marcelli per Blando ma Minella al 73esimo sfiora il gol che riaprirebbe il match con una punizione bellissima del centroavanti che sfiora l'incrocio dei pali. La Vastese dall'altra parte vicina al 3 al 77esimo. Piazzato di Capellupo ma alla testa di Sciba manca un filo di precisione. Dopo il miracolo di Patania a 5 dal termine. L'estremo difensore di casa prima rimedia sullo compagno del Duca e poi rintuzza anche il rimpallo successivo al ridosso della sua porta. Non succede più nulla. La Vastese vince per 2 a 0 in camera 3 punti d'oro nella rincorsa alla salvezza. E seppur si tratti dell'obiettivo minimo stagionale essere ad un passo dal centrarlo è davvero una grande impresa. Continuiamo con la Serie D. Persa la sfida salvezza, blackout per il Giulianova. L'Isernia può fare festa, decide il super gol di Fazio. I giallorossi pagano il vistoso calo nel secondo tempo. I molisiani fanno sentire il fiato sul collo. Il distacco si riduce appena a 4 punti. Partita finita 1 a 0. Rammarico per le diverse occasioni da rete non capitalizzate nella prima frazione del match. per l'11 giallorosso, neppure il tempo di piangersi addosso. Domenica c'è il derby contro la Vastese. Bolzan deluso, fuori casa non siamo concentrati. Andiamo a vedere la trasferta amara del Francavilla KO con rimpianti. Il Francavilla schiuma rabbia, doppia rimonta e sorpasso della San Giustese. Rachini eccessivo in rigore con il rosso a spacca. Partita finita 3 a 2 che andremo a vedere fra un attimo. Prima osserviamo il titolo del messaggero. Il Francavilla due volte avanti. San Giustese lo batte in volata. I marchigiani riescono a trovare la terza rete sfruttando l'uomo in più. Vediamo. Sfida per un posto nei playoff, quella andata in scena al comunale Villa San Filippo di Monte e San Giusto tra San Giustese e Francavilla. La squadra locale guidata da Senigallesi ha bisogno di una vittoria per non perdere quasi definitivamente il treno per gli spareggi. Si schiera con il consueto 4-2-3-1 con Argento al posto dello squalificato Sciba. Pezzotti, Cerone e Tizzi a sostegno dell'unica punta che dirà. Il Francavilla arriva nelle Marche con problemi nel reparto arretrato visto l'assenza di Bosco e Caffiero con Rachini che schiera al loro posto. Allora Gallo e Nazari subito negli 11 di partenza a Centro Gravoli recuperato. Omele con Bedini e Milizia. In avanti tanta fantasia con Palumbo, Banegas e Dos Santos. La prima occasione del match arriva al sesto minuto ed è di Marco Abruzzese con Banegas che scambia con Palumbo ma la conclusione del fantasista giallorosso è debole per rimpensierire Chiodini. Tre minuti più tardi la squadra di Rachini protesta per un fallo di mano di Sant'Agata ma non è dello stesso avviso, Cardella di Torre del Greco. Ma al 26esimo si sblocca la gara in favore degli abruzzesi. Banegas trova Palumbo al limite dell'area di rigore, il fantasista napoletano calcia di precisione e trova l'angolino con l'estremo Chiodini immobile. Ma un minuto più tardi la Sangiustese ha l'occasione di pareggiare. Subito l'incontro, Cerone serve un pallone d'oro a che dire che praticamente solo davanti a Spacca sbaglia il più facile dei gol. Il Villa sembra poter gestire questo primo tempo ma al 32esimo arriva il gol del pareggio e bravo Camillucci a trovare che dire che in area di rigore viene atterrato da Spacca. Con l'albitro Cardella di Torre del Greco che assegna il rigore e spelle il numero uno giallorosso, espulsione che fa infuriare e non di poco i giocatori di Rachini. In portava Natale a fargli posto l'autore del gol Palumbo. Sul dischetto si presenta Cerone che spiazza Natale. La partita prende un'altra piega con la Sangiustese galvanizzata dall'uomo in più e al 34esimo che dirà ancora l'occasione di mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori ma è bravo Natale a opporsi all'attaccante Marchigiano. Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo il Villa rimette la testa avanti. Banegas in azione solitaria entra in area di rigore e viene atterrato da Argento con il direttore di gara che assegna il secondo rigore di giornata dagli 11 metri realizza lo stesso fantasista argentino. La ripresa parte con la Sangiustese che manda in campo Boacà per Tizzi ma al sesto minuto che dirà si divore il gol del pareggio. Bravo Cerone a mettere il giovane rosso-blu a tu per tu con Natale che compie un vero e proprio miracolo. Ma i marchigiani premono e al nono arriva il pareggio. Uscita un po' avventata del portiere Natale con il pallone che arriva sui piedi di Pezzotti che in diagonale ristabilisce la parità. Al diciassettesimo ancora occasione per il rosso-blu con Argento che da due passi sbaglia il tapin con la palla che finisce alta sulla traversa. Al venticinquesimo primi cambi per il Villa con Buppe e Boloca che prendono il posto di Samuel Di Renzo e Bedin. Ma al trentaseiesimo arriva il sorpasso rosso-blu. Cross di Cerone che pesca in aria scogna Miglio che di testa trafigge Natale. Per il gol del 3-2 il Villa in difficoltà per l'uomo in meno al trentacinquesimo all'occasione di parigiare con Fabrizi ma il suo tocco sottoporta è debole e centrale per la parata facile di Chiodini. Cinque minuti assegnati dal direttore di gara dove il Villa prova a raggiungere il pareggio ma la poca lucidità non porta a risultati positivi. Con questa vittoria la Sangiustese raggiunge a 51 punti proprio il Francavilla e domenica il Vallanzuca. Altro match d'alta quota contro la Recanatese. Ancora Serie D, il Pineto non sa vincere in casa. Il titolo del messaggero, un rigore di Tomassini parato dal portiere Menegatti ma anche i marchigiani sbagliano dagli 11 metri. La partita si conclude a rete inviolate con gli abruzzesi che guadagnano un punto nel giorno della sconfitta dei Big. Sul centro il Pineto, ecco qui il pareggio 0-0 col Montegiorgio. Festival del rigore fallito per il Pineto. Solo un pari. I Tomassini ipnotizzato dal portiere del Montegiorgio, poi è strepitoso scipa. I Biancazzurri si accontentano e conservano il quarto posto in classifica. Il commento di Amaulo e la gara che dovevamo fare non ho rimpianti. Andiamo a vedere insieme il servizio. Festival del rigore mancato al Mariani Pavone tra Pineto e Montegiorgio termina 0-0 ma con un errore dal dischetto per parte che pesa sul risultato finale. Leggero turnover per mister Amaulo rispetto all'undici che ha battuto il Cesena e il tecnico di Porto San Giorgio sceglie Sciba tra i pali, ritrova nel 4-2-3-1 Pepe in difesa ma perde Orlando sostituito da Mazzei mentre in avanti il riferimento centrale è Cruz con Tomassini in posizione defilata. Risponde Paci con un 4-3-3 che annovera Ghiani, esterno basso a sinistra Omiccioli a dettare i tempi a centrocampo mentre il tridente è composto dall'ex Mariani, Marchionni e Calamita schierato nell'insolita posizione di esterno alto. Il Pineto approccia bene la partita. Al settimo bello scambio esposito Tomassini Marianeschi che porta il centrocampista alla conclusione, poco potente però può bloccare a terra Menegatti. Al sedicesimo i biancazzurri conquistano un buon calcio di punizione ma Tomassini spedisce oltre la traversa. Al ventisettesimo infortunio muscolare per Pronsmans al suo posto Albanesi. Il Montegiorgio chiuso nella propria metacampo si limita a difendersi con il Pineto che cerca di imporre il proprio gioco senza però riuscire a trovare il bersaglio grosso. Amaolo cambia modulo col centrocampo a rombo e le due punte più vicine. Il gioco sembra più fluido. Al ventottesimo è ancora Marianeschi ad andare vicino al vantaggio quando servito da esposito sulla destra rientra bene ma strozza il tiro che termina a lato. In avvio di ripresa al sesto l'episodio che potrebbe cambiare gli equilibri del match. L'arbitro Fantozzi di Civitavecchia sanziona con la massima punizione l'intervento in area di Biaziol su Matzei. Dal dischetto Tomassini non si ripete la conclusione è centrale e Menegatti può deviare in corner. La gara non decolla ma ci sono più spazi rispetto alla prima frazione. Amaolo decide di cambiare ancora. Foli Camplone, Pietrantonio e Tomassini dentro Marini, Cercelluti e Fratangelo per avere maggiore movimento sulle fasce. E al ventiseiesimo arrivano i primi frutti. Prima Marianeschi poi Fratangelo vanno alla conclusione. Si salva in corner la difesa. Passano due minuti e Cercelluti serve centralmente Cruz che fa da sponda per l'inserimento ancora dell'ex Teramo che però calcia sull'esterno della rete. Break del Monte Giorgio al ventinovesimo con la gran botta dalla distanza di Pellizzi deviata da Sciba. Sugli sviluppi del corner la sfera spizzata da Terrenzio attraversa pericolosamente tutta l'area. Ora le squadre sono lunghissime ed entrambe le compagini possono sfruttare le ripartenze per far male. E proprio una di queste al trentatreesimo potrebbe essere fatale al Pineto quando Marini commette fallo in area su Albanesi. Calcio di rigore questa volta per il Monte Giorgio. Marchionni dal dischetto angola ma Sciba compie il miracolo tornando il paraligori d'inizio stagione e salvando letteralmente il risultato. L'ultimo sussulto del match è il diagonale velenosissimo di Cruz che fa la barba al palo. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce uno 0-0 non soddisfacente ma che permette al Pineto in virtù della vittoria della vastese sul notaresco di conservare la quarta piazza. Buon punto per il Monte Giorgio che riceverà domenica prossima la visita del Cesena. Ancora serie D con l'anno stregato dell'Avezzano. Avezzano al tappeto, la beffe è servita nel finale, terza sconfitta di file e Colavitto ancora secco di punti in trasferta. Domenica sfida vedita all'Isernia. Partita fra Are Canatesi e Avezzano finita 2-1. Adesso andiamo a vedere la festa del Chieti promosso in serie D. Neroverdi pareggiano a Nereto e vincono il campionato con due gare d'anticipo davanti a 400 tifosi. Cori applausi per i giocatori. Lucarelli il più osannato. Pubblico fantastico vorrei restare con un progetto serio, dice Lucarelli. Andiamo a vedere anche in promozione l'altra festa, quella del Lanciano. Un pari alla festa e il Lanciano torna in eccellenza. Partita col Casarbordino finita 0-0 contro il Casarbordino. Appunto, prima gara senza gol in stagione ma al Delgrosso basta per brindare. Qui vedete le foto della festa. Andiamo a vedere anche questi due trionfi sul messaggero. Trionfo Chieti e Seredi. Qui vedete proprio la festa nero-verde. E poi il Lanciano promosso con l'eccellenza che torna nella cittadina frentana. De Vincentis, contento sì, stupito no. Mister Delgrosso, gruppo eccezionale questi commenti per quanto riguarda il Lanciano. Andiamo avanti e completiamo il messaggero con le altre notizie di sport. Tortona, successo inutile e play-out. La Seco in A2 con lo strano regolamento è obbligata a dover affrontare un gironcino per conservare la categoria prima a Roma. Per quanto riguarda il basket di A2, Roseto si arrende alla corazzata Treviso. Finisce 88-61, tutto deciso nel primo tempo. Troppe assenze per gli Schwarz che alla fine sono costretti ad arrendersi. Si salva Pieric. E poi la palla a nuoto, Settebello, altra dimostrazione di forza. Pescara che ha sbancato Santa Maria Capoavetere con un perentorio 8-4. Nel taglio basso l'Aquila, lo scivolone in casa complica la salvezza per quanto riguarda il rugby. Andiamo a vedere poi sul quotidiano Il Centro le altre notizie. Il Roseto non c'è, Batosta a Treviso. Sharks ma in grado di avvicinare i più forti avversari, ma i play-off sono ancora alla portata. Si scioglie il gruppo Curva Nord. E poi il commento di coach d'Arcangeli. Troppa differenza tra noi e loro. Pagina successiva. Le abruzzesi di Serie B. Il derby sorride al Chieti. Giulianova battuto d'un soffio. Partita finita 52-53. Campli non azzecca neanche una tripla di Sfatta Farnese sul campo di Nardò 89-47. Poi Marche Indigeste altra sconfitta per l'Amatori 87-80. Nella pagina successiva Teramo rialza la testa. Grande partita contro il Civitanova 71-63. E poi il lancione spugna anche Isernia per la C-Gold. Vittoria per il Magic. Questo per quanto riguarda anche il basket al Podismo. In Mille a Pescara per la 36esima edizione del Vivi Città. Il Vastese Scarlato in vetrina. Il 22enne della Terno Pescara secondo dietro al Kenyota a Chiplimo. Prima tra le donne la 16enne Teatina Trivellone. Tra gli atleti in gara anche il governatore Marsilio con la casacca della Tocco Runner. Poi ancora torniamo al volley. Girone blu siamo in A2. La Sieco ripartirà in casa contro Roma. Gli ortonesi battono il Club Italia ma non basta per finire i playoff. Il nuovo percorso verso la salvezza inizierà domenica. Per la Serie B nei posticipi sorridono le donne. Successi al tiebreak per Altino e Giulianova. Il Pineto cade a Lucera. Pagina successiva. UR L'Aquila. Un altro KO ora è allarme rosso. In Serie A i Nero Verdi si arrendono al Perugia e scivolano al penultimo posto. D'Antonio errori arbitrali decisivi. Mancano tre gare. Domenica si va a Benevento. Partita con Perugia finita 34 a 41. Ancora rugby. La Serie B. Pagani Cavezzano sconfitte nel doppio confronto col Napoli. Le altre notizie. Chiudiamo il calcio a 5. A Questapone 4 in nazionale. Città di Montesilvano evita il peggio. Regionali nuoto sincronizzato. Papa Francescone e Vennitti sul gradino più alto all'Aquila. E ancora sabato la premiazione Bocce. Ecco i campioni regionali. Brilla la stella di Rocchetti. Questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6. Questa sera vi ricordo anche l'appuntamento con Replay per quanto riguarda il Pescara. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.